Ciao a tutti ragazzi! È ufficiale! Guardate, non so come dirlo, ma dopo 28 anni ritorna in tv un programma che, come avete avuto modo di intuire dal mio canale, è stato giusto un pelino uno dei miei programmi preferiti da sempre. Vi ricordo qualcosa? Un piatto in mezzo? Un jingle che suona quando gira la ruota? Proprio così ragazzi, ritorna in tv, il pranzo è servito! Il pranzo è servito ragazzi! Ma di quello che è trapelato finora dai vari mezzi di informazione ci sono tre novità rispetto alle scorse edizioni. Uno non tornerà in onda su canale 5, come all'epoca, ma bensì su Rai 1. Eh sì, la Corima, la storica casa produttrice di questo format, ha affidato alla Rai la messa in onda di questo programma. Due, l'orario. Non andrà in onda all'ora di pranzo, come all'epoca, ma bensì alle 14, più o meno dopo il Tg1 delle 13 e 30. E tre, il conduttore. Non sarà né lo storico Claudio Lippi, che diede il cambio allo stesso Corrado dopo alcune edizioni, né Davide Mengacci, che concluse l'ultima edizione del pranzo è servito. Ma bensì? La Vensinna, lo storico conduttore romano, conduttore dell'eredità, sarà lui a riproporre in tv questo programma. Che ne pensate? Siete contenti oppure no di questo storico ritorno in tv di questo programma, dell'orario, del conduttore? Scrivetemi cosa ne pensate, come la vedete, qui sotto nei commenti. Se siete curiosi di questo storico ritorno in tv di questo programma, del pranzo è servito, se avreste preferito un altro orario, un altro conduttore, se avreste preferito che questo programma rimanesse lì dove era, senza riproporlo. Ditemi cosa ne pensate, ok? Grazie dell'attenzione, ciao a tutti!